Ciao amici del Panda! Oggi parliamo di... 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 Oggi... È un ottimo argomento di conversazione. Ragazzi, io mi rendo conto che ormai l'ispirazione è un punto fermo delle nostre vite. Sì, decisamente, se non siamo ispirati non c'è triglia per matti. Ora immaginate di dover creare qualcosa. Un progetto lavorativo, forse un compito scolastico. Quindi voi raccogliete tutta la concentrazione possibile, tentate di pensare a un'idea... Ma quella non arriva. Forse è una sorta di problema di fabbricazione, è un blocco che abbiamo nel cervello. Fatto sta che voi non siete ispirati. E se non lo siete, entrate in un limbo di pigrizia e cazzeggio devastanti. Sperando che la vostra idea geniale arrivi ronzando come una tanzara di notte. Ad esempio, fare video su YouTube richiede ispirazione. Cosa che non ho assolutamente avuto negli ultimi tempi, come avrete notato. Disegnare richiede ispirazione. Cioè? Wow! Ma sei troppo bravissimo a disegnare! Non ci posso crederci! Fammi una caricatura! Oh, guarda, dire il vero non sono molto ispirato oggi. Ma cosa mi ne sbatte? Se sai disegnare, sai disegnare, no? Beh, anche mangiare richiede ispirazione. Finalmente! Pausa, pranzo! Cosa mangi oggi? Ma guarda, io pensavo a qualcosa di leggero. Allora, cosa ne pensi di quel rotolo crudo e rucola? Cosa c'è dentro? No. Beh, non puoi certo dire di no a quel panino con la cotoletta. No, figurati la dieta. L'impepata di cozze la fanno freschissima. Ma no, guarda, l'ho già mangiata stamattina a colazione. È che non sono ispirata. Insomma, tutti noi abbiamo bisogno di ispirazione. Facciamo un sondaggio. A cosa siete ispirati in questo preciso momento? Fatemelo sapere con un video di risposta o un commento proprio qui sotto. Apro una piccola parentesi. Ho deciso di aprire un secondo canale in cui inserire tutte le cavolate video che non inserirai mai in questo canale. Comunque, visto che ho ricevuto già un po' di consigli su Facebook, vorrei chiederlo anche a voi. Che nome vorreste che avesse il mio nuovo canale? Aiutatemi! Non sono ispirato! Ma sono curioso. Ragazzi, io mi rendo conto che ormai li... Ragazzi! E... Ti cercate di... Io adesso lo ammazzo questo qua. E... E... Grazie a tutti.